Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini, nato a Viterbo, ha 69 anni ed è un produttore televisivo e musicale. I due si sono conosciuti grazie al lavoro e sono sposati da 32 anni. Insieme hanno avuto quattro figli, Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio, che hanno rispettivamente 29, 27 e 23 anni. Silvio Testi, aianagrafe Silvio Capitta, è nato a Viterbo nel 1954 ed è un produttore televisivo. A proda nel mondo del piccolo schermo alla fine degli anni 70, producendo musicalmente Stefania Rotolo nel programma Piccolo Slam. Poi diventa autore e produttore musicale di diversi varietà di Rai 1, come le varie edizioni di Fantastico e Stasera Niente di Nuovo, l'ultimo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Nel 1987 fonda la società Triangle Production, su cui concentrerà la maggior parte delle sue attività. Poco dopo inizia la collaborazione anche con Mediaset. Per Canale 5 firma la produzione musicale e la sigla di Audience. La Notte Vola, Buona Domenica, La Stangata e diversi altri. Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono conosciuti grazie al lavoro. Lui produttore televisivo, lei conduttrice e ballerina. Inizialmente entrambi erano impegnati in un'altra relazione. Ma per Cuccarini la scintilla scoppiò subito. Anche se l'amore arrivò dopo due anni. Ci siamo conosciuti sul lavoro in fondo. Ma eravamo entrambi impegnati. Ci siamo innamorati dopo due anni. E all'inizio avevamo una gran paura di rovinare il nostro rapporto professionale che era di grande stima reciproca. Ci è andata bene. Ci vuole una certa dose di fortuna. Ma anche tanta buona volontà. Sei mesi dopo il fidanzamento, nel giorno di Natale, Testi fece la proposta di matrimonio alla compagna. Le nozze sono poi furono celebrate a Subiaco il 3 agosto 1991. Ad oggi sono felicemente sposati da 32 anni. In occasione del trentesimo anniversario, la co-conduttrice di Sanremo 2024 ha fatto una romantica dedica al marito. Mentre per i 29 anni hanno festeggiato le nozze di granito.